Nel cortile di Palazzo Lascaris è stata presentata la nuovissima unità mobile in dotazione alla protezione civile piemontese. Si tratta di un mezzo efficientissimo e super attrezzato, un furgone 4x4, allestito come sala operativa mobile progettata sulla base delle esperienze operative acquisite dal 2005 ad oggi. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba, l'assessore all'ambiente Roberto Ravello e il consigliere Giampiero Leo. Un bilancio significativo dal punto di vista dei numeri, nonostante il 2013 non sia ancora stato caratterizzato da eventi di particolare portata. Comunque più di 500 sono stati gli interventi dei volontari di protezione civile e degli antincendi boschivi sul Piemonte. Oggi presentiamo l'ultimo acquisto, entra a far parte della colonna mobile regionale, un modulo di comando e comunicazione mobile che rappresenta un importante passo in avanti in tutte le attività di coordinamento delle attività, di scambio di dati e di informazioni sui territori colpiti.